Contratto nazionale scaduto da 7 anni e paga oraria di 6 euro. Le guardie giurate chiedono attenzione. Azzurro Donna ha premiato le pratesi che danno lustro alla città con il loro impegno quotidiano. Il Prato a caccia della svolta in campionato, domani a Lungobisenzio arriva la San Maurese. Buon pomeriggio dal telegiornale di TV Prato. In questa edizione diamo voci ad una categoria di lavoratori di cui si parla poco. Il cui contratto nazionale è scaduto da oltre 7 anni e la cui paga base oraria è di 6 euro lordi. Stiamo parlando delle guardie giurate. Una di loro, Isabella Bascherini, ha contattato la nostra redazione affinché possa aggiungere un riconoscimento economico e sociale a persone che tutti i giorni operano accollandosi grandi rischi e responsabilità. Il nostro lavoro è molto rischioso e molto delicato, anche se nessuno parla di noi perché siamo considerati una categoria invisibile. abbiamo un contratto scaduto da un'infinità di tempo, per cui io che sono un sesto livello ho una paga di 6 euro lordi l'ora, nell'aspettativa di arrivare a 7 euro lordi tra 4 anni e nessuno riesce a fare nulla. Un lavoro invisibile e sottopagato. Isabella Bascherini, guardia giurata in servizio a Prato, vuole che si conosca la situazione di un mestiere che in tutta Italia, a causa delle condizioni del contratto nazionale e dell'inquadramento giuridico, porta gli operatori del settore ad assumersi grandi responsabilità e ad affrontare i rischi per la propria incolumità a fronte di una paga bassissima che parte da poco più di 1.000 euro al mese. Un contratto, quello nazionale della vigilanza privata, che peraltro è scaduto nel dicembre 2015. Isabella tiene a precisare che non ha nessun appunto da fare all'azienda per cui lavora che si è sempre comportata correttamente. Ma Isabella ha a cuore la divisa della guardia particolare giurata che indossa con alcune interruzioni dal 2002 e auspica un riconoscimento sociale ed economico del lavoro che svolge assieme a 40.000 persone in tutta Italia. Tantissimi rischi perché comunque sia noi siamo ufficiali di pubblico servizio, quindi noi siamo preposti a tutelare i beni mobili e immobili, ma non le persone, cioè noi non dobbiamo intervenire sulle persone. Ma se queste persone creano un danno a un bene che è in custodia a noi, ci troviamo in seri problemi, in grandissime difficoltà perché purtroppo la nostra Bibbia che è il tups, sotto tanti aspetti diventa interpretazione. Quindi non sai mai se come ti muovi, ti muovi bene, ti muovi secondo quello che un domani ti potrebbe tutelare o meno. Non sai mai se il soggetto che hai davanti è un soggetto pericoloso. Come prenderlo, come agire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. È molto difficile, ma molto sottovalutato il nostro lavoro. Ecco, lei è una donna che fa questo lavoro, è anche una mamma. Tra l'altro mi spiegava che la componente femminile è molto apprezzata per le guardie giurate. Sì, esattamente, è molto apprezzata perché comunque sia in determinati servizi è anche giusto che ci sia una componente femminile per tutta una serie di situazioni che vi potete immaginare. Anche un solo rapporto tra un utente maschio e un utente femmina, invece un utente femmina e un utente femmina. Cioè è molto diverso come ci si interfaccia. È difficile fare questo lavoro, è molto difficile. Molto difficile fare il lavoro, accettarne rischi, che io comunque siano accettato, ma è ancora più difficile l'arrivare a fine mese. Quello è il grosso problema. Il candidato sindaco di centro-sinistra, appoggio a Caiano, Francesco Pugelli, ha presentato il simbolo della lista che guiderà verso il voto amministrativo di maggio. La presentazione c'è stata ai giardini di via Sottombrone, dove è stato svelato il progetto di riqualificazione dell'area finanziato con fondi europei. Partono dai giardini di via Sottombrone gli incontri elettorali del candidato sindaco del centro-sinistra, Francesco Pugelli, in vista delle amministrative di poggio a Caiano. Il primo cittadino uscente, per prima cosa, ha ufficializzato il simbolo della propria lista, con la parola insieme a richiamare la volontà di un percorso condiviso con l'elettorato e con la cittadinanza? Se vuoi andare veloce vai da solo, ma se vuoi andare lontano devi andare insieme. E se c'è un progetto politico che ha un senso, è quello che riesce a coinvolgere le migliori energie di una comunità e far sì che l'amministrazione sia solo lo strumento per il quale tutte queste energie si traducano in progetti, in opere, insomma, tutte cose che possano rendere una comunità ancora più bella, ancora più sostenibile. Insomma, poggio è al centro del nostro progetto. Come detto, Pugelli è partito da Via Sottombrone, una delle zone che in cinque anni di mandato la Giunta non è riuscita a riqualificare, ma dove c'è un progetto finanziato con fondi europei che porterà entro fine 2024 a realizzare forestazione urbana con la sostituzione degli attuali pini che danneggiano asfalto e marciapiedi, una nuova pista ciclabile che collegherà fino al campo sportivo di Comeana e un restyling complessivo di giardino e spazi pubblici. Non siamo riusciti a fare l'intervento di riqualificazione che avevamo nel cuore, ma che è pronto, perché in questi cinque anni non abbiamo fatto solo cose visibili, quindi opere già canterizzate o già in vista, come per esempio la piazza che è già partito, le altre che partireanno tra poco, ma abbiamo anche presentato e preparato dei progetti sui quali abbiamo ottenuto finanziamenti, quindi sono pronti per poter essere realizzati. Azzurro Donna ha premiato le pratesi che danno lustro alla città, un riconoscimento ai loro superpoteri. Vediamo il servizio di Diletta Bezzi. In occasione della settimana per la festa della Donna, all'ex chiesino di San Giovanni si è tenuta la cerimonia di premiazione per il premio promosso dal coordinamento regionale e provinciale di Azzurro Donna. Ho voluto proprio dedicare questa settimana, questa settimana di un impegno forte, perché non è solo festa quando si parla dell'8 marzo, si parla di giornate di diritti internazionali delle donne, ma noi abbiamo voluto dare un riconoscimento a queste dieci più due ragazze meravigliose che in questo momento fra l'altro si trovano a avere degli incarichi, dei ruoli assolutamente prestigiosi tra le più grandi istituzioni della nostra città e sono donne coraggiose, donne piene di passione, di volontà, di intelligenza e di competenza. Sono donne che sanno arricciarsi le maniche, come tante lo hanno dimostrato di loro, e portare avanti con entusiasmo e compassione tante dinamiche diverse, perché la giornata delle donne veramente è una giornata piena di tante cose, tutte belle, per carità, a volte si affrontano anche quelle brutte, purtroppo a me ci sono, ma sempre con quell'entusiasmo, con quella forza che secondo noi è la forza dei superpoteri. Un premio nato con l'intenzione di premiare donne eccellenti di Prato che operano in ambiti diversi tra loro, ma tutte meritevoli per il loro coraggio, la loro intraprendenza e il grande contributo che danno alla città. È un grandissimo piacere per una cosa che è stata l'amore della mia vita, non ricordo un inizio di voler entrare, è sempre stato in me, la Croce Rossa è sempre nata con me, quindi oggi questo premio mi gratifica molto per questa mia attività che ho fatto, ma che ho fatto con tanto amore e con tanto piacere. Che si guarda la donna non come un oggetto, come una cosa bella, ma come una persona intelligente che è capace e che ha il suo ruolo ben preciso nella società e si vede che mancano proprio le donne in tanti settori della vita politica e anche della vita sociale e della Chiesa. Più che una carriera è stata un voler essere vicino agli altri, dare voce a chi non ce l'ha e quindi il mio primo amore sono stati ragazzi disabili ed è stata un'esperienza magnifica che io vorrei che tutti facessero perché hanno tanto da insegnare questi ragazzi. Un ricordo speciale è rivolto a Elvira Trentini, scomparsa nei giorni scorsi i cui nipoti hanno riterato la targa al suo posto. Rita Pieri ha concluso annunciando che il prossimo anno il premio sarà dedicato alla sua memoria. Elvira è una nota dolorosa di questa giornata, ma tanto dolorosa. Aveva accettato questo invito con un entusiasmo meraviglioso e invece ci ha lasciato e chiaramente questa giornata mi pare chiaro che è dedicata a Elvira. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Il Prato a caccia della svolta in campionato domani a Lungo Bisenzio, arriva la San Maurese e ci racconta tutto Marco Manzo. Otto partite per dare un senso alla stagione, magari provando ad agganciare in extremis un posto per i playoff. Il Prato guarda i prossimi impegni con l'intenzione di provare a svoltare e trovare nel finale il colpo di coda. D'altronde il calendario delle ultime otto partite non è proibitivo e ora che piano piano Brando sta recuperando pedine importanti, uno su tutti i mobilio, il Prato può anche cercare di recuperare un posto in classifica che più gli compete. In verità dall'infermeria non arrivano solo buone notizie. Se da una parte si è svuotata di lungo De Genti, il tecnico ha perso sempre per infortunio due difensori, Angeli e Bassano. Il primo ha rimediato una lesione subtotale dell'inserzione del terzo prossimale della fascia plantare. Per Bassano invece gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Domenica contro la San Morese le opzioni a disposizione nel reparto retrato non saranno quindi molte, ma il recupero di Ciccone e l'aumento del minutaggio di mobilio almeno hanno dato maggiore imprevedibilità e pericolosità al reparto offensivo. Restate con noi perché alle 17.30 in diletta dal Duomo di Prato trasmetteremo come ogni sabato la recita del rosario e a seguire la messa prefestiva. E poi l'informazione torna questa sera alle 20.30 come sempre con il nostro telegiornale, però potete sempre essere informati tramite il nostro sito e la nostra app e poi seguirci sui nostri canali social. Vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.